Musica Allora ragazzi, una cosa veloce prima di iniziare il video, allora se volete iscrivervi al canale per supportarmi si fa così, vedete questo tasto rosso iscriviti, cliccatelo e vi verrà il simbolo iscritto, ovvero diventerà grigio e poi ragazzi accanto vi apparirà una campanella, voi la cliccate e selezionate tutte, in modo tale che attivate tutte le notifiche sul mio canale cosa sono le notifiche? ogni volta che io pubblico un video, nell'area delle notifiche, vi verrà Mad Best Game appena pubblicato un video quindi niente, ora possiamo partire con il video E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, bentornati in un nuovo video unboxing Quest'oggi siamo qua ad aprire i Super Zings, questa scatolina molto carina che ho trovato nel negozio di giocattoli siamo sempre in compagnia di mia cugina Ines, che però quest'oggi riprenderà, questo non è un video che appartiene agli episodi insieme a mia cugina lei in questo video solo riprenderà, però intanto la faccio salutare Saluta, ciao E quindi ragazzi, partiamo subito con l'unboxing Ok ragazzi, io ho comprato questa scatolina del Super Zings che dovrebbe contenere due personaggi e un Super Jet Ragazzi, non conoscevo io i Super Zings, ma comunque ho trovato questo nel negozio di giocattoli e mi è piaciuta la scatolina E quindi ragazzi, ho deciso di comprarla per fare l'unboxing Ok, possiamo partire Ecco qua Togliamo la plastichina Appena tolgo la carta, ci vediamo Ok Eccoci qua, la nostra scatolina ragazzi, guardate, è veramente bella, a me piacciono tantissimo queste cose scatoline Poi una cosa di questo genere Che ragazzi, attenzione, apriamo la nostra scatolina E troviamo subito i personaggi Ovvero, qua abbiamo un personaggio Dovremmo avere un personaggio, poi non lo so per bene E qua ragazzi, il nostro Jet Sì ragazzi, abbiamo questo fantastico Jet di colore verde Mettiamo da parte la scatola E ecco qua ragazzi Apriamo Il primo Jet Che è una specie di elicottero fantastico Con dentro un mini personaggio Wow, guardate che figo Sono fighissimi questi personaggini E poi ragazzi, prendiamo Ecco qua il nostro elicottero Ok, montiamo tutto Ok Eccoci qua Con il personaggio Non so come si aprono Ecco qua ragazzi, il personaggio Qua c'è il book E qua ragazzi, dobbiamo avere un personaggio Ok, apriamo Perfetto, abbiamo una pastica E qua dentro ci dovrebbe essere il personaggio Non so come si apre Ah, ecco fa Finissimo, proprio così si fa E dentro abbiamo questo personaggio Vediamo un po' com'è Wow, questo è figo Dovrebbe essere un cattivo o un buono Non lo so perché i sogni non li conosco Ma mi piacciono tantissimo Perfetto, quindi adesso ragazzi Andiamo a montare l'elicottero Poi ci mettiamo dentro il tizio Eccolo qua, il nostro elicottero Do, 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 do Molto figo E ecco qua ragazzi I nostri personaggini Vediamo il fanbook Ecco qua ragazzi Il fanbook sono tutti i personaggini e quindi niente ragazzi abbiamo aperto questa scatolina dei Super Zinitz se la volete comprare anche voi trovate in qualsiasi negozio di giocattoli ma anche nel link in descrizione costa 4 euro e 99,5 euro noi ci vediamo nel prossimo video lasciate un bel pollicione in su aremo a 5 like per un prossimo episodio giusto? si, ciao